Ciao a tutti voi da Rosi, ancora un appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e come sapete quando ci troviamo in compagnia di Grandolfo Auto c'è sempre tanto da sorridere, perché è vero che vi facciamo sorridere, ma c'è anche tanto da guadagnare perché sono sempre offerte molto convenienti e oggi ci troviamo anche in un posto nuovo. Vabbè, qui c'è Dario, ma vi faccio presentare poi naturalmente da Sebastiano Grandolfo che è qui accanto a me, Massimo, insomma, come sempre una bella famiglia. Grazie Rosi, buonasera a tutti, a tutti i clienti che ci hanno rivolto a noi la loro fiducia e come vi ho promesso siamo qui a Piacenza, signori, ci siamo fatti in quattro per voi. Piacenza via Rodolfo Boselli all'81 bar 83, anche sulla strada dove c'è l'Aina, il campo da rugby, è vero Massimo. Presento Dario che troveremo qui nella sede di Piacenza. Buonasera a tutti, sono Dario e mi troverete qua e sarò a vostra disposizione per qualunque domanda e qualunque vostro esigenza. E per comprare le macchine! E Massimo che è qui alla mia testa, mio figliolo. Quindi ci siamo fatti in quattro per voi? Ebbene sì, perché? Perché abbiamo aperto anche a Milano in via... Caroncini 11! Angolo Tito Livio. Siamo attaccati ad altri brand importanti perché a noi ci piacciono le sfide, vero Dario? Assolutamente sì! Ecco qual è la promozione del momento. Dario, cosa facciamo per i nostri clienti che hanno una rottamazione in atto? Ma questo però solo nel mese di dicembre, dall'1 al 31. Cosa offriamo per chi ha un'auto che ha compiuto i 10 anni, Dario? Facciamo pagare al signor Grandolfo un bel 7 anni di garanzia! E io continuo a pagare qua, lui offre 7 anni di garanzia e non siamo a maggio! Benissimo, 7 anni di garanzia, cosa vuol dire? A chilometri illimitati, a costo 0, se avete un'auto da rottamare che ha compiuto i 10 anni. Rosy, che ne dici tu? Io dico che ha un'offerta da cogliere al volo nei quattro punti via... Dai, Rosy, fuori la penna! Facciamo il contrario! Andiamo a firmare subito! Mi piacciono un sacco, ve l'ho già detto, mi piacciono un sacco queste vetture, venite naturalmente a fare un test drive e poi tu hai detto vi siete fatti in quattro, ma hai detto l'indirizzo solo di Piacenza e di Via Caroncini, ma avete anche altri due punti vendita, gli storici! Benissimo, allora come vi ho detto ci siamo fatti in quattro, abbiamo la sede di Pantigliate, la sede storica ormai da anni che furono... La strada statale paulese, chilometro 8.2, Pantigliate e... La sede del paulese center, centro commerciale, zona Paullo e quindi la Via Caroncini a Milano, importantissima con l'Euro 3 che ormai va in default perché ormai sono inquinanti queste auto, noi abbiamo le autovetture con gli impianti a GPL e quindi possiamo circolare sempre, euro sempre. Ma facciamo parlare le protagoniste, DR4, DR4 come sappiamo, autovettura full optional di serie, pensate, tetto in cristallo, videocamera posteriore, specchietti in chiusura da Ligabiano, quattro videocamere, che videocamera posteriore? Ha tutto, interna in pelle 17.000 euro e anche benzina GPL, ma... Io continuo a pagare, è che tu spendi sempre i soldi di papà, va bene. Dario, a cosa offriamo questa autovettura, questa bella autovettura che è la? DR3. Quindi la DR3 è una? Ha una macchina benzina, completamente full optional, anche lei, possibilità di avere... Tutte le vostre DR sono tutte full optional, anche il metallizzate di serie, non c'è problema. Non c'è problema. Proposta con cerchi in lega, videocamere posteriore, tetto apribile, il mirror link, si connette lo smartphone, utilizziamo le applicazioni del nostro telefono, Waze, iMap, tutte queste tipologie, lo usiamo tutti i giorni. Il sistema di sicurezza, ABS, PCS, HHR, che è l'acqua planning, signori, l'ABD, che è il controllo di sbandata, poi cosa abbiamo ancora? Climatizzatore, Cruis, Cruis Control, quindi ha studiato, Dario ha studiato. Un pochino sì, dai. E se hai la rotavazione, Dario? Sette anni di garanzia, chilometri illimitati, e sottolineo, chilometri illimitati. Continua a mettere il dito nella piaga, io pago, continua a pagare. Quindi l'autovettura DR3 ha un costo di 15.000 euro. Ragazzi, se non è questa la velocità, se non è questa la felicità, a sole 15.000 euro, tutto di serie, attenzione, tutto di serie, non a partire da. No, 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 tutto a, tutto a, solo la tassa IPT che è a parte. Si può avere anche con sole 1.000 euro l'ecologia, il non-stop dell'auto. Voi potete circolare sempre, in qualsiasi momento, perché a GPL è euro sempre. Quindi avete eliminato anche quel problema. Intanto io la DR3 ce l'ho in mano da ormai qualche mese, io con 26 euro faccio circa 600 kW di media. Ma però abbiamo anche la DR6. Parliamo della miraglia? Rullo di tamburi? Andiamo, andiamo, andiamo la miraglia. DR6, attenzione, 155 sono i cavalli di questo 1.500 turbo benzina, benzina GPL, benzina in metano. Full option anche le di serie, tetto in cristallo a doppia apertura, videocamera posteriore e poi? ABS, c'è chi lega. Ok. Controllo pressione pneumatici. Abbiamo anche qua il sistema MirrorLink, il tablet da 8 pollici che ci permette di utilizzare USB, chiavette, Bluetooth, segnali, insomma veramente una tutela completa. Il sedile addirittura elettronicamente robotizzato e attenzione, dolci si fundo, ultimo o non ultimo il Keylass. Si apre, si accende senza chiavi. Massimo, diamo il prezzo di questa macchina. Bene, DR6 appunto verrà a costare a 20.000 euro, tutto compreso. Benzina GPL, come sappiamo, costerà 1.000 euro in più, metano 2.500 euro in più. E per la rotamazione? Beh, signori, anche qua, anche su DR6 ci sono sette anni di garanzia a chilometraggio limitato che premiano la vostra auto da rotamare. E io continuo a pagare. Dario, dove andiamo adesso? Su quale auto vettura? Ma io direi di andare sulla DR5, l'Evo 5. Via. Siamo sulla Evo 5. Evo 5. Anche perché la Evo 5 adesso è soggetta a una grande offerta, giusto? Evo 5 che è la signora DR, ormai lo sappiamo tutti, dal 2006 è un'autovettura che ha garantito grande successo al marchio. Attenzione perché anche qua è un'offerta irripetibile, un'autovettura full optional di serie, tetto in cristallo, videocamera a posizione per la retromarcia, sensore di parcheggio, tablet da 8 pollici con sistema pressione, controllo pressione pneumatici, pensate, 13.990 euro. Massimo, questa macchina che cilindrata ha? Questa autovettura è un 1.6 da 127 cavalli, ma attenzione, 127 cavalli da dominare su ogni circuito, ogni strada e ogni fuoristrada. Vi aspettiamo. Per le donne, per il tempo libero, per il weekend, per andare in montagna per chi ha la casa in montagna. Insomma, è a duple fasse, signori, sì, a duple fasse. Quindi venite con questa promozione solo nel mese di dicembre, avrete quello che Massimo vi ha esternato. Quindi, ecco, Rosi ci vuole dire la sua? Sì, no, mi è piaciuta particolarmente un'espressione che hai usato prima, euro sempre, perché così non dobbiamo più preoccuparci di euro 6, euro 7, euro 5, euro 4, euro 3. Se avete una vettura euro 3, venite naturalmente a Rotta Marla, anche euro 2, anche euro 0, anche euro 1. Qui avrete tutti i numeri, come avete visto, quindi DR6, DR4, DR5, 5 Evo e adesso vedremo anche DR0, quindi tutti i numeri per essere sempre sulla strada, per non fermarvi mai. La grande Rosi, la grande Rosi, la sua professionalità da oltre 31 anni che la conosciamo e devo dire che è impeccabile. Grazie ancora, Rosi. Assolutamente, adesso è proprio bene. Attenzione perché, Rosi, tu lo dici sempre, ultima ma non ultima, abbiamo la 0. La 0, ecco qua. Venite, eccola qua, DR0 pensate, in soli 3,51 metri di dimensione, abbiamo spazio e comodità per 5 persone con un'ottima motorizzazione molto conveniente anche nei consumi che è il 1000, pensate, un 1300 cilindri da 69 cavalli, ma di serie, Dario. Allora, intanto è una macchina assolutamente pensata per la città, quindi qua a Piacenza sicuramente sarà una macchina apprezzatissima. La macchina è anche lei full option in tutte le sue parti. Quindi, sensore di parcheggio, 4 vetri elettrici, cerchi in lega, chiusura centralizzata a distanza con radio e comando, 4 vetri elettrici e non soltanto quelli anteriori, la sirena, sensore di parcheggio. La abbiamo già detto. Sensore di parcheggio, l'abbiamo già detto. Autoradio con usb, auxine, sd, insomma un'auto di vettura completa. Possa quest'auto con tutto di sere e anche il metallizzato. 8.000 e 500 euro. E lui paga. E ti ci metti pure tu, lui offre il caffè, tu offri le macchine e quindi a questi prezzi e io continuo a pagare. No, offro anche di più. No, basta, io mi fermo qua. No, 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 offro di più. No, offro di più. Vai. Anche su questa offro i 7 anni di garanzia. Eh, che spettacolo. Quindi anche su DR0 con un'autovettura da Lottamare verrete premiati con 7 anni di garanzia, chilometraggio illimitato. Dove? Qui a Piacenza, via Rodolfo Boselli al numero 81-83. Siamo nel cuore di Piacenza, dove potete mangiare il gnocchio fritto e anche il pissarefase, come dice il chi. E quindi a quel punto abbiamo un piacentino doc, che è Dario Chinelli. Quindi poi abbiamo la sede di Milano, via Caroncini 11, Angolo Tito Livio. Siamo attaccati a un brand famoso e tutti conoscono la Tito Livio, attenzione. Lì, anche lì, abbiamo la Rottamazione con 7 anni di garanzia. La sede di, la filiale di Paulese Center nella zona di Paullo, Paulese Center. Ultima, ma non ultima. È ultima, ma non ultima, come dice mio figlio, dagli anni che furono, 1979. Eccoci qua. Prima avevo i capelli neri, adesso ce l'ho un po' bianchi, anzi, se li ho persi anche. E a questo punto la sede di Pantigliate, Pantigliate la storicità. Ci siamo fatti in quattro per voi e quindi a questo punto salutiamo. E vi aspettiamo. E vi aspettiamo numerosi anche per un test drive. E perché no? Non guardatela, venite a provare. Venite a provarle, è vero. Quindi saluto Massimo, mio figlio, la Rosi che è impeccabile, Dario che è tra di noi. E ciao a tutti e grazie ancora per aver offerto a noi la vostra fiducia. Ciao. Grazie, a presto.